Le difficoltà, la paura e poi il coraggio, storie di donne, otto donne che ad un certo punto della loro vita hanno deciso di dire basta alla violenza fisica o psicologica ed hanno scelto di parlare e denunciare ciò che stavano subendo. Queste otto storie di vita e di coraggio sono raccolte nel libro Sono ancora viva a cura delle giornaliste Chiara Brilli ed Elena Guidieri, in collaborazione con i centri antiviolenza Frida Calo, Casa delle donne di Pisa e Artemisia. Sono ancora viva è un'affermazione di dignità interiore verso il mondo delle donne. Ed è per questo che Sono ancora viva non è un libro di storie di donne uccise, del tragico epilogo a cui siamo troppo abituati anche dal punto di vista mediatico, questa abbondanza anche famelica di ricostruzioni di cronaca, testimonianze, opinioni, anche in formato romanzo criminale, ma volevamo ridare dignità alle donne anche nella loro lotta. Testimonianze che fanno pensare se veramente si fa davvero di tutto per affrontare questa grave questione sociale che è la violenza sulle donne. Su cui bisogna intervenire seriamente mettendo risorse a disposizione, mettendo ovviamente spazi a disposizione per poter aiutare e sostenere le donne che prendono coraggio, denunciano e decidono di uscire da questa situazione drammatica della violenza sul loro corpo. Grazie. Grazie. Grazie.